La campagna promossa dalla CEI Liberi di Partire e Liberi di Restare ha lo scopo, attraverso molteplici attività, di integrare ma soprattutto offrire a minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio di riferimento della diocesi una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso due laboratori professionali coordinati dall'Africa Chiama, conclusesi nel mese di agosto con stage formativi. Il progetto è avviato a ottobre 2018 e della durata di 24 mesi. Tra gli obiettivi specifici del progetto ci sono quello di innalzare il livello di sensibilizzazione sociale da parte della comunità pastorale sul tema dell'accoglienza, favorire la formazione e l'accompagnamento di tutori volontari e alzare il livello di integrazione sociolavorativa di minori stranieri non accompagnati presenti nella diocesi. Sono ragazzi prevalentemente africani, alcuni ragazzi anche di origine albanese che abbiamo coinvolto grazie anche al coinvolgimento delle strutture della cooperativa Labirinto ma non solo. Oggi al centro pastorale diocesano consegnati ai primi minori aderenti al progetto gli attestati di frequenza in una toccante cerimonia alla presenza dei vertici della Caritas diocesana e delle onlus Africa Chiama e Labirinto. Per la seconda annualità verranno poi attivate ed implementate anche altre attività. L'idea è stata quella di formarli nel periodo estivo quindi anche per aiutarli diciamo a impegnarsi in un periodo in cui no tendenzialmente si rischia di stare senza fare nulla e la sfida è quella in cui tra l'altro anche il progetto lo prevede di individuare quelli più motivati, quelli che si sono impegnati e quelli che hanno voglia di mettersi in gioco inserendoli attraverso delle borse studio lavoro. Quindi questo progetto prevede proprio un fondo che utilizzerà la Caritas diocesana per da una parte formare ulteriormente alcuni e dall'altra magari per incentivare aziende ad ospitarli e perché no a fare loro anche un vero e proprio contratto di lavoro. Quindi il tutto per puntare a un'integrazione lavorativa a 360 gradi.